Cosa succede a Binance Coin? Perché oggi ha perso il 10% e ha fatto questa candela molto profonda che è andata, guardate qui, ad appoggiarsi proprio alla base, ad una struttura molto importante sulla quale il prezzo ha rimbalzato per davvero tante volte nell'ultimo periodo, praticamente è da maggio che lo sta usando prima un po' come resistenza e poi come supporto. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi parliamo di Binance Coin, di questo 10% al ribasso, vedete la candela già però ha recuperato metà della sua, quasi metà della sua discesa, si è riportata di nuovo intorno ai, vicino ai 32 dollari, a 31,90 siamo. Ragazzi, la notizia che ha guidato questo tempestivo, chiamiamolo flash crash, ma non è un flash crash perché siamo a meno del 10%, non lo chiamerei così, è stata questa notizia, importantissima, perché Binance.com ha ufficialmente, già se ne parlava da un po', era nell'aria, ha ufficialmente, o meglio, ha dichiarato che a settembre 2019 chiuderà ufficialmente, bloccherà la possibilità a clienti americani di poter far trading. Dice ovviamente Binance che attraverso il suo CEO, amministratore delegato, che non ci sarà comunque fretta o da preoccuparsi perché i fondi rimarranno su Binance per un po' di tempo, non ha specificato quando, quindi anche se smetterà di prendere una, diciamo così, di prendere nuovi clienti USA, non vuol dire che brucerà i conti di quelli che sono aperti. Fatto sta che, ragazzi, il mercato americano per Binance vale circa il 15% rispetto ai totali movimenti di volumi sull'exchange, vedete qua da questo grafico, guardate qua il traffico stimato in milioni, qui siamo a visitatori, 40 milioni di visitatori, guardate quanto gli Stati Uniti rispetto a questo istogramma stanno in alto rispetto al secondo e terzo posto che sono rispettivamente India e Giappone. Andate via poi a leggere la notizia, ragazzi, con calma e fatto sta che, qual è il motivo, quali sono le motivazioni? Sono le motivazioni che hanno spinto già BitMEX, che hanno spinto già altri Poloniex, altri exchange settimane fa, mesi fa, ad andarsi dagli Stati Uniti e questo è dovuto ai problemi di regolamentazione, perché diventa sempre più difficile essere un exchange con le carte in tavola, con le carte in regola, come si dice, e quindi preferiscono andare via, addirittura perdere quella fetta di mercato. Decisione importante anche dal punto di vista del business, ma questo è, e questo è quello che è successo sul mercato. Staremo a vedere se continuerà un po' a flettere, adesso dobbiamo aspettare anche la sessione asiatica, qui vi faccio vedere qual è la seconda struttura, se dovesse romper questa potrebbe puntare ai 25 dollari, ma vi dico, il progetto di Binance e Binance Coin è piuttosto robusto, questa è la terza, poco sotto i 20 dollari, ragazzi, 19 dollari, l'altra struttura. Non credo, e questa è una mia opinione personalissima, non è un consiglio finanziario, possa scendere qui in basso, se dovesse succedere sarebbe interessante valutare per chi ne non è ancora entrato, magari un'entrata, e per quanto mi riguarda potrei anche pensare di valutare di aumentare le mie posizioni, ma la vedo veramente dura, possa arrivare qua, lo vedo più come un, veramente un, diciamo una, un flash crash, chiamiamolo così, momentaneo. Ok, e ragazzi vi ricordo che questa settimana dovrebbe uscire anche il 16 giugno, avevano detto, dovrebbe uscire la, un po' di notizie, la documentazione che riguarda la nuova cryptocurrency, Libra, o meglio il sistema di pagamento integrato di Facebook all'interno dei suoi messaging system, Libra è il nome che gli è stato dato, e stavo vedendo che è stato supportato da una dozzina di importantissime aziende, e infatti, diciamo, si sono iscritte al progetto Visa, Mastercard, Paypal, Uber, sarà molto interessante vedere che cosa succederà, rimaniamo, rimanete vicini qui sul canale che lo commenteremo in diretta non appena avremo informazioni. Fatto sta ragazzi che oggi è una giornata importante per Bitcoin, proprio alle soglie del weekend, che cosa fa Bitcoin? Guardate qua. Quante volte vi avevo detto di tenere sott'occhio questa struttura qui a 8.200? Perché il prezzo, se riusciva a rompere e chiudere al di sopra anche di questi spike, quindi stiamo dicendo al di sopra degli 8.390 dollari, allora si poteva veramente pensare a una nuova puntatina ai 9.000 dollari, vedete, eccoci qui la struttura successiva ai 9.000 e poi quella successiva ancora ai 9.500. Sorprende un po' tutti questa candela, come al solito di nuovo un rialzo che arriva alle porte del weekend, i weekend sono stati, se ci fate caso e andate a vedere nel passato quello che è successo su Bitcoin, vi renderete conto che i weekend hanno giocato un ruolo molto importante, anche e soprattutto per le accensioni, per gli impulsi al rialzo che ci sono stati. Vediamo se anche quello di questo weekend sarà un rialzo che andrà a puntare proprio a questi massimi. Ragazzi, volevo fare questo rapido update qui con voi sul canale, un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati, soprattutto perché settimana prossima abbiamo questa notizia, cliccate sul bottone iscriviti per essere notificati insieme all'icona campanellina da YouTube, appena pubblico un nuovo video, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!